attiva la nuova sede vaccinale all'iperconad prenotazioni per gli over 70 seconde case vietate per i non residenti nelle marche in vigore la nuova ordinanza iniziata oggi la rimozione dei new jersey dal cantiere delle silicate sport termina con un pareggio latesissimo derby tra alma juventus fano e vispesaro buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è lunedì 29 marzo in apertura parliamo di sedi per le vaccinazioni perché ci sono alcune novità importanti da comunicarvi infatti la nuova sede vaccinale che si è spostata dal centro monaldi fino agli locali dell'ex risto siamo all'interno dell'iperrossini noi questa mattina siamo andati a vedere la situazione ed è entrata in funzione questa mattina la nuova sede per le vaccinazioni anti covid qui all'interno della galleria del centro commerciale iperconad nei locali dell'ex risto le vaccinazioni che si sono svolte questa mattina hanno riguardato i richiami per quanto riguarda le seconde dosi del vaccino pfizer e qualche primo appuntamento che era stato rimandato nelle scorse settimane l'adesione è molto alta e quindi stiamo procedendo con le seconde dosi di pfizer e anche alcune prime dosi quindi l'unica cosa che vorrei raccomandare alle persone che poi si creano alcune file è quello di pre compilare a casa la modulistica oltretutto queste sono seconde dosi quindi le persone dovrebbero saperlo che devono ricompirare alcuni moduli e noi siamo pronti a raddoppiare il numero di vaccini che facevamo al centro monaldi considerate che la facevamo 800 siamo arrivati anche fino a 900 vaccini al giorno questo è un centro che poi vi dirà anche il dipartimento di prevenzione che può arrivare anche a 2000 vaccini noi siamo predisposti in modo tale che quando arriverà il quantitativo sufficiente e abbiamo i medici che abbiamo che stiamo reclutando noi potremo andare alla massima potenza e cercare di vaccinare più veloce possibili più persone possibili l'impressione è buona nonostante alcune difficoltà di partenza sin da oggi pomeriggio non sono previsti vaccini nel pomeriggio apporteremo dei correttivi organizzativi cercando di posizionare nei due ingressi esterni delle strutture mobili per far pre compilare i moduli all'interno ci sono dieci postazioni infermieristiche otto postazioni mediche al momento ne sono ne funzionano quattro mediche e tre infermieristiche perché con l'esperienza del Monaldi abbiamo visto che il problema sono i medici in termini di tempo e non la prestazione infermieristica in sé questo ovviamente prescinde da ogni altra valutazione da parte dei sindaci dei comuni limitrofi che ha ragione ovviamente chiedono di periferizzare alcune postazioni quindi di aprire altri punti vaccinali il che per noi andrebbe benissimo dobbiamo semplicemente reclutare il personale al momento abbiamo questo e se riusciremo a potenziare il nostro organico soprattutto in termini medici potremo anche aprire altri punti vaccinali e puntare al risultato ottimale che è quello di vaccinare tutti entro la fine dell'anno le prime attese che si stavano delineando nei minuti antecedenti all'apertura dovute per lo più al presentarsi dei prenotati con diverso anticipo rispetto all'orario indicato e al rallentamento per la compilazione della modulistica di chi ne era sprovvisto si sono poi trasformate in breve tempo in un regolare accesso ai punti di vaccinazione senza particolari ritardi o problemi soddisfatti anche i cittadini per il passaggio della sede vaccinale dal centro Monaldi all'ex Ristò sì sì questo è il migliore molto bene a me non sono allergico comunque tutte e due le missioni che ho fatto sono andate bene un po di di debolezza ma però non tanto invece sono stato servito e rimerito accompagnato con la carrozzina appena qui e non ho sentito niente è andata bene anche l'attesa sì anche l'attesa è la norma diciamo sì è andata bene io non c'entro niente l'attesa la fila tutto a posto anche qui a certo sì sì tutto a posto nella tarda mattinata ha poi effettuato un sopralluogo sul posto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sì siamo molto soddisfatti gli operatori ci hanno raccontato di un sistema che funziona molto meglio anche di una soddisfazione da parte degli utenti questa mattina nonostante che sia il primo giorno voglio ringraziare davvero Conad e il Rossini Center perché hanno dato un'opportunità alla città importante del resto sono settimane e settimane che diciamo che servono più posti posti più grandi questo sicuramente oggi è un posto adeguato sia per qualsiasi tipo di clima che c'è caldo freddo è sempre coperto è facile da trovare c'è dal parcheggio e gli spazi sono davvero molto grandi e il meccanismo organizzativo funziona molto bene è chiaro che rimane il problema che gli spazi sono pochi nel Lazio già da una settimana si vaccina fino alle 24 e oggi hanno chiamato i 67 anni quindi stiamo parlando comunque di un sistema nonostante che la regione Lazio sia una regione molto più grande molto più complicata della nostra stiamo assistendo anche a sistemi che stanno viaggiando meglio di là di questo c'è tempo per c'è modo di recuperare però chiedo alla regione di ascoltare i sindaci e di fare quattro punti di vaccinazione nel nostro territorio e questo vale ovviamente anche per le aree interne per la zona di Fano perché il problema è comune a tutta la provincia Continuiamo a parlare di vaccini perché la regione Marche ha comunicato che a partire da oggi sono state aperte le prenotazioni per le somministrazioni destinate ai cittadini come ben sapete di età compresa tra i 70 e 79 anni sempre da oggi poi è in vigore anche la nuova ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli relativa proprio al divieto di spostamento verso le seconde case sul territorio regionale per chi non risiede nelle Marche allora vediamo tutto questo in questo prossimo servizio si amplia in regione il bacino di utenti chiamato alla vaccinazione anti covid a partire dalle 12 di oggi infatti hanno preso il via le prenotazioni per le somministrazioni riservate ai cittadini marchigiani compresi nella fascia d'età tra i 70 e i 79 anni per tutti coloro che potranno raggiungere i punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti covid 19 attraverso il portale online di poste italiane al quale è possibile accedere anche attraverso il sito della regione Marche consultabile all'indirizzo www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure tramite il numero verde 800 00 99 66 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 per la prenotazione online oltre ai dati personali dell'utente occorrerà presentare il numero di tessera sanitaria e del codice fiscale insieme ad un numero di cellulare al quale verrà confermata la registrazione dell'appuntamento una volta avviata la prenotazione all'utente verranno immediatamente comunicati il giorno e la sede dove verrà somministrato il vaccino insieme all'orario in cui il cittadino si dovrà presentare al punto di vaccinazione al momento della somministrazione della prima dose sarà poi comunicato il giorno per effettuare il richiamo le novità in partenza oggi a livello regionale non riguardano però soltanto la tematica vaccini è in da questa mattina infatti la nuova ordinanza firmata dal governatore francesco acquaroli che limita gli spostamenti per il periodo pasquale per chi proviene da fuori regione la misura vieta ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle marche di raggiungere le proprie abitazioni diverse da quella principale e quindi le cosiddette seconde case nelle giornate antecedenti e a cavallo della pasqua l'ordinanza sarà valida fino alla mezzanotte di lunedì 5 aprile e lo spostamento resterà consentito soltanto in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute sempre mediante l'uso dell'autocertificazione un provvedimento ritenuto necessario in forza del principio di precauzione e alla luce dell'evolversi della situazione pandemica nelle marche e c'è un'ultima ora che riguarda proprio le vaccinazioni destinate agli over 70 infatti sono state più di 10 mila le richieste arrivate nelle prime ore dopo l'apertura di questa piattaforma appunto per le prenotazioni come riportato dalla direttrice generale dell'asur nadia storti all'agenzia dire questo sovraccarico di richieste ha portato la piattaforma online ad un blocco temporaneo che si presume verrà risolto entro breve tempo e ora la pagina relativa agli aggiornamenti covid sul nostro territorio presenta come ogni lunedì un calo dei test effettuati e di conseguenza dei nuovi positivi il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi 742 nel percorso nuove diagnosi 756 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 con 51 casi in provincia di pesaro urbino 7 invece i decessi notificati dal servizio sanità della regione nella serata di ieri ed ora passiamo alla cronaca perché si sono concluse intorno alla mezzanotte dello scorso sabato le operazioni di recupero di un cittadino residente a san giovanni marignano precipitato lungo la scarpata in località tetto del mondo per causa in corso di accertamento il 26enne è rovinato per almeno 20 metri lungo il ripido pendio che si getta poi nel mare riportando diverse escoriazioni l'amico che era con lui ha chiamato prontamente la centrale del 118 e successivamente sono stati allertati i vigili del fuoco di pesaro e la stazione locale del soccorso alpino e speleologico intervenuta con due mezzi ed otto operatori il medico del soccorso alpino ha quindi effettuato una prima valutazione dei traumi riportati dal ragazzo il giovane è stato posto sulla speciale barella portantina e con speciali tecniche alpinistiche è stato trasportato fino alla strada per essere poi affidato alle cure dei sanitari intervenuti in supporto con l'ambulanza il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale regionale di torrette per la valutazione dei traumi riportati e adesso cambiamo argomento infatti è iniziata la rimozione dei new jersey posti di recente sulle silicate per l'intervento di messa in sicurezza della strada finanziato da ANAS la richiesta che fra i capofila vedeva residenti del posto e alcuni cittadini riunitosi poi anche in un comitato è stata dunque accolta raccogliendo però le critiche del primo cittadino pesarese Matteo Ricci vediamo sono partite oggi le operazioni di rimozione dei new jersey installati sul tratto stradale delle silicate il cantiere di ANAS era già fermo da qualche settimana più precisamente da quando la soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle marche aveva chiesto la sospensione dei lavori all'amministrazione comunale per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica dopo aver ricoperto gli scavi precedentemente realizzati dunque questa mattina è iniziato lo smantellamento degli sparti traffico per cui diversi residenti e cittadini alcuni dei quali riuniti sotto il comitato Consolare Flaminia ne chiedevano la rimozione già ridosso del loro arrivo a favore di uno studio per la sicurezza del tratto stradale che prendesse in considerazione misure diverse tra cui la diminuzione delle corsie e la realizzazione delle banchine la presa di posizione mossa e confermata dai cittadini anche dopo l'avvio delle rimozioni è stata criticata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci ogni volta che c'è un incidente mortale o grave sulle silicate tutti chiedono che venga messa in sicurezza le silicate scrivono al prefetto, chiediamo l'intervento dell'ANAS l'ANAS propone un piano con una nuova rotatoria silicate chiesta dalla comunità di quella zona che si farà e uno sparti traffico innovativo che separa le carreggiate delle strade nei due sensi di marcia tutti contenti io stesso un giorno ho partecipato a una riunione dove mi sembravano tutti contenti poi come cominciano a montarli nasce il comitato tutti contro, polemiche sui giornali il fatto sta che adesso l'ANAS quell'investimento l'ha cancellato non è questo il modo di intervenire sulle questioni importanti poi io capisco gli animali, capisco tutto ma la prossima volta che purtroppo ci sarà un incidente grave sulle silicate ci sarà qualcuno che dirà ma non avete fatto niente per impedire l'incidente sulle silicate questo non è il modo che a me piace nel quale piace affrontare i problemi della nostra città non l'ho seguita personalmente però non si può chiedere una cosa ottenerla e poi alla prima protesta fare un casino come quello che è stato fatto fino a perdere l'investimento il consigliere comunare del gruppo di minoranza Forza Italia Michele Redaelli ha deciso poi di rispondere alle affermazioni del primo cittadino pesarese è veramente triste che il sindaco se la prenda con i suoi cittadini e con i comitati se l'amministrazione fosse stata da subito più attenta a questa tematica non saremmo arrivati all'inizio del cantiere da parte di ANAS basandosi su un progetto che non è soddisfacente e non corrisponde alle peculiarità di questo territorio dopotutto non è certo colpa dei cittadini se gli enti preposti all'iter autorizzativo ancora non hanno dato il parere favorevole necessario le problematiche della sicurezza sono oggettive e rimangono sul tavolo sia con che senza il muro proposto da ANAS stiamo parlando infatti del problema degli incroci a raso stiamo parlando del problema della mancanza delle banchine e stiamo parlando soprattutto del problema dell'elevata velocità con cui quel tratto di strada viene percorso queste richieste le abbiamo portate e messe nero su bianco portandole in consiglio comunale tramite un'interpellanza se ANAS e l'amministrazione comunale intendono veramente mettere in sicurezza quel tratto di strada raccolgano queste criticità raccolgano le proposte molto interessanti e positive che ha portato il comitato e i cittadini e si mettano seriamente al lavoro ed ora una comunicazione che ci arriva dalla regione Marche anche nei giorni scorsi la regione ha segnalato che da domani martedì 30 marzo sarà operativo anche nella nostra provincia di Pesaro Urbino il numero unico di emergenza europeo 112 il numero unico di emergenza concentra in un'unica numerazione tutte le chiamate di soccorso componendo il 112 da rete fissa o mobile si entrerà in contatto con la centrale unica di risposta Marche Umbria di Ancona che gestisce le richieste di emergenza delle due regioni smistandole a seconda delle situazioni ai carabinieri 112 alla polizia 113 alla capitaneria di porto 1520 ai vigili del fuoco 115 al soccorso sanitario 118 le cui numerazioni resteranno comunque attive ed è arrivato l'ok dalla regione Marche per la riapertura delle attività di toilettatura degli animali ad annunciarlo è stata la CNA di Pesaro Urbino che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione a partire dalla mezzanotte di martedì 30 marzo quindi queste attività rimarranno aperte anche in zona rossa ma dovranno rispettare alcune regole tra cui l'obbligo di fissare appuntamenti telefonici e online la richiesta di autocertificazione del proprietario dell'animale per confermare che quest'ultimo non conviva con persone positive in quarantena e per l'utilizzo dei mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale insieme a questi il rispetto del distanziamento interpersonale e la limitazione massima dei contatti tra cliente e gestore dell'attività e dalle riaperture passiamo ora a parlare delle chiusure perché tra le realtà ancora ferme a causa delle restrizioni ci sono anche quelle dei parrucchieri come ben sapete e anche dei centri estetici a sottolineare il carattere di urgenza per tornare a riaprire queste attività è stato il segretario provinciale della CNA Moreno Bordoni Assolutamente è un problema enorme perché non sono quelli i luoghi in cui la pandemia si è sviluppata non c'è un caso accertato in queste situazioni dove c'è un rispetto dei dispositivi sanitari enormi pensate che i centri estetici hanno gli stessi assolutamente dispositivi che hanno gli odontotecnici quindi assolutamente quello è un luogo sicuro è un luogo da aprire immediatamente perché non siamo in grado di dargli ristori e li azzeriamo completamente il fatturato in più un'altra piaga enorme che noi stiamo sviluppando in questo momento è l'abusivismo perché dentro le case vanno in maniera abusiva a fare il lavoro e in questo caso qui c'è anche un ulteriore aggravio della sicurezza perché nei centri estetici e nelle parrucchierie ovviamente si sottosta a leggi molto rigide mentre dentro le case fanno un po' quello che gli pare quindi un duplice problema il nostro grido d'allarme da subito è riapriamo immediatamente ci sono le condizioni di sicurezza centri estetici e parrucchieri Ed è arrivato anche dall'amministrazione comunale di Pesaro il cordoglio per la scomparsa di Atos Tombari per dieci anni dirigente del liceo Mengaroni di Pesaro il sindaco Ricci e il vice sindaco Vimini hanno ricordato la figura di Tombari come quella di un artista capace appassionato e sempre disponibile a contribuire alla vita culturale della provincia e come ogni lunedì arriviamo alla pagina dedicata al nostro sport quello appena trascorso infatti è stato un weekend davvero importante per il calcio locale che ha visto scontrarsi nell'ennesimo dermi in programma l'Alma Juventus Fano contro la Vis Pesaro è terminato in pareggio 1-1 l'incontro tra Alma Juventus Fano e Vis Pesaro impegnate al Mancini nell'atteso derby stagionale il match che ha visto l'arrivo per la prima volta nella panchina Granata del nuovo allenatore Tacchinardi consegna un punto a testa alle due squadre e conferma la posizione dei Biancorossi a più 6 dai Granata per i quali quindi diminuiscono le possibilità di allontanarsi dai play-out punto importante perché manteniamo a distanza il Fano abbiamo allungato sull'imolese e dobbiamo continuare come ho sempre detto la strada è lunga ed è lunghissima non dobbiamo mollare ci prendiamo questo punto perché alla fine i ragazzi hanno risposto presente normalmente non siamo stati brillanti come le altre occasioni però questa settimana abbiamo avuto tanti piccoli problemini l'ultimo di Paola questa mattina che ha dato forfait e quindi abbiamo dovuto tra virgolette adeguarci adeguarci a quelli che avevamo a disposizione mi aspettavo il Fano che veniva a battagliare anche perché non aveva mezze misure il Fano che doveva vincere doveva fare la partita doveva vincere per accorciare veniva dal cambio allenatore quindi da sempre quell'entusiasmo in più ma noi siamo stati bravi siamo stati bravi sull'unico errore nostro in fase impostazione abbiamo subito gol e lì forse siamo stati un po' ingenui però poi abbiamo avuto la bravura di recuperare e di portare a casa questo risultato importante per noi arrivato in questa partita che non era facile noi rimaniamo mantenendo la distanza da loro e quindi è un grande punto volevamo vincere ma in una partita così difficile un buon punto è importante il gruppo c'è è unito ci capiamo al volo quindi non troveremo difficoltà se giochiamo così e spero che questo sia un passo avanti verso il nostro obiettivo con Belfano sono contento a metà perché l'atteggiamento è sicuramente di una squadra che mi sta dando tutto sta lavorando sono contento a metà perché dovevamo provare a giocare di più senza paura con coraggio invece ho visto una squadra normale anche noi sappiamo le importanze che è per questa per questa città questo derby anche per il valore della classifica che era questa partita qua però abbiamo fatto un'ottima gara abbiamo lavorato bene ci siamo mossi bene sono contento certo avrei preferito dare una gioia piena alla tifoseria alla società ma si va avanti a lavorare non si mola di un centimetro poi insomma i ragazzi sicuramente uno è spirito diverso rispetto a quando poi li ho conosciuti martedì dove li ho visti veramente in difficoltà però la squadra ha fatto ha giocato poteva giocare meglio sicuramente giocherà meglio però se arriviamo a questo punto della stagione che i punti sono veramente pesanti e bisogna avere ancora un pizzico più di personalità ci lavoreremo cercheremo di preparare al meglio una partita sabato molto difficile il derby va fuori dagli schemi è una partita che sta a sé devo dire che per le occasioni concrete che si sono create il risultato è giusto non voglio non voglio accampare scuse o attaccarmi ad altro sicuramente i ragazzi sull'onda del gol poi avevano fatto un'ottima partita poi una disattenzione una una mancata applicazione insomma ferrea delle marcature ci ha fatto prendere quel gol però questo è il calcio a questo punto continuiamo andiamo avanti ed ora andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV si parte alle 21.15 con questi meravigliosi video dedicati a palcoscenico Marche ogni lunedì vi portiamo in un luogo meraviglioso da scoprire dove arte e cultura si uniscono assieme grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio e poi alle 21.30 vi trasmetteremo in prima serata e in prima assoluta Pesaro per Dante questo evento che si è tenuto nel fine settimana online ma che l'amministrazione comunale ha deciso di trasmettere anche su Rossini TV un appuntamento molto interessante di arte di cultura veramente di bellezza per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante e poi vi ricordiamo che in questa settimana continuano le celebrazioni pasquali che vedrete in diretta su Rossini TV mercoledì alle ore 18 ci sarà la messa Crismale mentre giovedì primo aprile alle ore 18 ci sarà in cena Domini e poi vi ricordiamo anche le altre venerdì 2 aprile sempre alle 18 la durazione della croce mentre si arriva al sabato 3 aprile alle 19 ci sarà la consueta veglia pasquale domenica 4 aprile alle 11.30 la messa di Pasqua quindi seguiteci su Rossini TV questi sono tutti gli appuntamenti per seguire assieme a noi la Pasqua e allora grazie come sempre per averci seguito noi ci ritroviamo domani mattina alle 7.20 nella Rassegna Stampa grazie a tutti